Mario per iniziare andiamo qua, a Hamborgo Bislac, così sta un po' di guerra Ah, guarda Ah, guarda Ah, guarda Allora, io non mi faccio valore, sai, no? C'è samba lì, no? Vedi, c'è troppa gente qua Eh, per questo E' una macchina qua E' una macchina la città qui Ma io ti vedevo Dove, dove, dove? Qui, sei una lasca Andami Ah, ho capito, ho capito Ma non c'è un'arma per me, mannaggia, miseria E' una ce l'ho da manchi l'arma, se per questo Oddio, che figo Sacca fuori C'è Luigi, dov'essi Scema ragazzi Devo riuscire un'arma Un po' Ah, ecco Andiamo di qua, Mario E' una macchina Non c'è Dove ma la tengo l'amuro qua, la tengo a me tra i detti di me mi piace ti serve qualcosa? ma la tengo l'amuro, la tengo hai preso la... ok si, l'hai preso l'ho preso anche allora mai ti tengo il medikit, se c'è qualcosa la tengo, non ho mai in vivo qualcosa non ho mai in vivo qualcosa l'amuro 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 c'è fatto l'assistente aspetta meglio che forse sei il suo amico ahhh, vieni te lo faccio tu oh se va, va a cucina tu hai perso vita, si si, via, via via non mi vedi la minicanna no qua stanno le band no no aspetta anche il medikit io ho fatto un sacco di danno qui non vedo perché non è morto no, infatti un colpo è morto alla fine quando... Mario sei il suo amico l'amuro un insieme 28 28 30 i oi io 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 Cosa è orgoglio, no? Ok, questo c'è così Qua Andiamo a vedere cosa sono nelle altre parti Qua si è un'altra cosa Oii, per te, Mario Mario, davanti a noi Ho già, mi sono visto Scupito 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 Ho mancato Bravo No, vabbè, se c'è un'esimo Bastato, no? Ah vabbè, Mario Non ce ne prendevo conto Io sparo, se li vedo Fido munizioni Non avremo più ca' dentro non hai munizioni no tettina non ne tengo no ne ho 140 oh ci sono troppo che spaccini facendo quello che può muovo un attimo ok non ci sono no qua nessuno ma roba che schifo che niente prende a sto tesoro andiamo a vedere sta mongo ho paura che stanno sulla montagna ti ho paura che con cecchini ci ammazza no no vabbè con cecchini magari ci mancano una prima botta poi ci prendono però ah li hanno aperto ma io la paro eh mamma mia sta niente mi prende soccoso coso però la vagea all'omigang no è cecchino pover chi non mi verm- poveri chi non è poveri chi non ma non è vero anche po la volta fare un po la volta dopo marzo ora che incontro sempre le persone forti che mi fanno oddio lo spaventapasse pensavo che era una persona o io stavo la mogola è il problema è che dentro dentro il gg sono spavano e prendi la cesta lì dentro ma la bella la guerra andiamo di un attimo di cori di conveni con me lo reggiamo se ti sembra un pompa prendi ma vengo un blocco non so se 12 e saline la presso non senti però non sono in tifo non senti senti te li do te me ne coveri poti me ne poti Mannaggia E bravo bravo Oh non sto qua 33 33 Grande Mario, bravo Mi hai sbagliato prima, non c'hai Ok Mario Quanta roba sta accadendo Mario, scari l'accendario, vietalo tu Ti do una, eh, che te me ne dico No, no, vieni che ti metti, fai 100 litri Non c'è meglio Non c'è meglio Non c'è più 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 Che sta accadendo, eh Munizioni Munizioni che cosa, Mario, te le do io Eh, metti, metti Tengo 118, vanno qua Ah, 218, ma il mio TSM E' mo cosa? No, no, no No Ah, sono lì Ah, 98 Sono sotto a questa montagnola 98 Eh, più o meno, 89 Eh, l'hanno costruito L'hanno costruito Ah, un viso viso Oh Oh, una di quasi tante L'ho vettato a uno Eh, Mario, questi qua si curano Eh, andiamo, andiamo Una l'ho vettato in questo Oh Questa è merda Vai, Mario Una, una terra Un colpo e muore One shot Grande, Mario, bravo Mario, c'è un altro Non so Ok Allora E' un'iscusa Cuscuso Rispetto Mario che lei si sta Vivo a porti E' un giugno Su cui bacio Vieni qui allora M'hai di gritto bene come piggia? Non a terra ma io Che cosa ne ha venuto? è un non 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 ci è non non che rischia aspettato un colpo questo qui dentro un colpo e muore ok ma la scuola ma arriva in oscuro dai 50 per caso no io tengo medici eh? tengo medici eh me lo dai hai pure i colpi per caso quali? vieni da me a fare meglio sa uno in caso l'ho sentito mi pare eeeh che lì? mi dai quelli cosa di lanciarazzi se ce li hai continuano 55 pesanti eh no sono i colpi medi i pesanti dico del primo 55 no sono colpi no colpi pesanti sono del cecchino i colpi per i lanciarazzi no non c'è ma io fai presto bisogno di un po' di metri aspetta hai colpi pesanti dei lanciarazzi no non c'è ok grazie ok grazie ok grazie mario vai te a cambiare la cura un colpi muore mario mamma mia mario c'è show mamma mia oh ma bello sta vittoria bello abbiamo partito all'aprivo ciao mario ma perché non ho giocato anche altre volte no c'è no c'è no c'è allora ti do buo e sta allora ti no c'è no c'è